sari roti non è che c'è un'ottimo non è che c'è un'ottimo che c'è un'ottimo non è la mia vai non è che c'è un'ottimo ciao a tutti i'ottimo fino a quando mi è fatto per quanto riguardi è un'ottimo per me è oggi Grazie a tutti 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 lo sono un bel di vento si è il giusto si è il giusto si è il giusto non è vero non è vero come in questo come in questo non è vero è vero è vero è vero che troppo sono un po' di cerco e non è vero non è vero ah! è vero non è vero non è vero no 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 la i i i i i i i i i c'è questo non lo so ci non sto per tantino e che tu eh ok tu non ti sto per tantino allora non so non c'èo te la prendo nia nientierò non prendo vim vim non c'èo non c'èo non parca dirini harga diri ngono gucini ya ampun aku udah di iling ruanganku singpian panah gudang Pak tapi lebih sempit kok kilo asli jujur guys manjigimala silui api komputer ini manjir udah kamu kamar boleh biasa saja tapi komputer spek tinggi enggak boleh 60 Ti oke lah kok kok rada botol nek tapi oke sih cuman yuk emang yuk lo kan temen kan tapi gak apa-apa sih maksudnya gini loh maksudnya gini eh sementara duennya iku ya tapi kalau sd2 nabung bisa diapik 40 piroon oke ya so get so get so get so get so lewong kongirone koyok yukon-kon koyon 222 lu belum mampu tuku 4090 ya dasmu tuh kok no bro untuk protes hari ngunuh ya jenengnya wong kanduwekku yus nyecil disekinnya api kapok botol nek cuman kaya nasing salah dia gue ya aku ngerasa nasing salah ya salah ya senemen menunggu ngasih tuh kok no mencek aku kayak pingin gitu aku rawmong emang wajik apa sih wajik salah fok ini lo maksudnya gaya omoh jendungnya ee rambut itu lho di kepang kayak gini gue terlalu real loh loh nah apa lagi malah ini malah apa transformer ya anjar apa rekk ini gak so positif kok aku jadi nih dilong dilong ini gak so positif aku bro bro gue lewato bro so this is mark murau and you might know him from this video hi oke mark ternyata selama ini oke itu namanya mark tapi pas yang 6 lagi and today i'm here to tell the story of the man behind the meme let's do it oke oke hehehe imagine ekspresi ini ngundu sih iya 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 aku aku get it aku get it cycle into the country of rwanda and decided to spontaneously meet mark mark is probably the first local we meet here shhhhhhhhhh more cold some more nah nyuswitannya bisa gak lidah toh oh dia itu gak bisa ngomong bahasa inggris aku gak tau apa namanya apa ancan pendiam tipe orangnya dan dia ini kayak bekerja sebagai tour guide dulu loh ya mau nasi goreng namang satu pedas gak gak saya gak tau saya belum makan enggak mbak sumpah saya belum makan saya gak tau pedas apa enggak kan sekarang saya belum nyobain nih mbak nanya pedas atau enggak saya gak tau sama kue teo satu mbak oh pedas apa enggak Masya Allah saya gak tau saya belum nyobain bang masalah gue belum nyobain nasi goreng lo udah dita aja pedas apa enggak gimana sih ini belum pernah makan ya belum pernah makan nah abangnya yang ngerti ini ini abangnya ngerti kalau gue belum pernah makan jadi gue gak bisa ngasih tau kan pedas apa enggak aneh nih mbaknya nih soalnya kalau gak gitu kita padahal salah bikin saya juga gak tau rasanya pedas apa enggak makanya ini bikin dulu ya ntar kalau kurang pedas mas kurang pedas gitu nah ini nih dia menemukan solusi gak kan kayak mbaknya tanya doang mbak cuman ngembak pertanyaan saya ini suruh jawab pak tadi saya kan mesin nasi goreng saya beli satu bang nasi goreng ditanya pedas apa enggak kan saya belum nyobain ya ngeselin banget gak ini ini mbak di bawah kalau ini enggak ini ini nih makasih itu non lo ho un'anggini non lo ho cari roti cari roti ahahahahahahah oh che c'è la non lo ho un'amamo non lo ho non lo ho un'anggino non lo ho un'anggino si intuano gli ui ahahahahhh i cant' diopole si intuano si intuano ii ngat' ahahahah buah ikut ahahahah ii ii Non puo non papi capire da già! Eheheh! Ehehehe! Eikku iku 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 iku! Rasa enak bikin jando! Rati asmara sepiku! Iki Honda Satria Fuuu! �èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè e0 iposte non fa usami come si usa ha清vato ahi pochèe La si non ho proviamo di un'applicazione ma non ho proviamo a fare qualcosa di nuovo non ho proviamo a fare tutto ciao 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 Grazie a tutti.